Cari amici, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. A piccoli passi, l'autunno cerca già di tendere la mano all'inverno, però è ancora autunno, siamo ancora in novembre e quindi le dinamiche sono prettamente autunnali, anche se appunto qualche incursione un po' più fredda probabilmente ci sarà nei prossimi giorni. Ma staremo a vedere intanto un inizio di settimana con molte nuvole, cielo molto nuvoloso coperto, piogge irregolari, guardate, possibili, quindi ombrelli sempre a presso potranno servire sui rilievi, non sono previste delle nevicate importanti, però delle nevicate, delle fioccate si potranno avere oltre i 1300-1500 metri. Questo è lo scenario quindi previsto per la giornata di lunedì. Molte nuvole, quindi spesso grigio, delle piogge e anche qualche fioccata nevicata sull'arco alpino. Per il momento mi fermo qui cari amici, buon proseguimento e buon inizio di settimana a tutti voi. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.